A Biceglie comincia ad essere già incandescente la situazione politica in vista delle prossime amministrative. L'amicizia e il sostegno che si è concretizzato alla passata tornata tra l'attuale sindaco Angelo Antonio Angarano e l'ex europarlamentare forzista Sergio Silvestris in realtà si è tremutata in una contesa che vedrà delle primarie tra i due che potrebbero concretizzarsi il prossimo febbraio. Una partita però in cui i riferenti cittadini e provinciali di tutte le altre forze politiche del centro-destra critiche nei confronti dell'amministrazione hanno chiarito di non voler partecipare. Il loro candidato senza sé e senza ma sarà l'ex primo cittadino Francesco Spina che ha tenuto le redini della città dal 2006 al 2017. Politico di vecchio corso passato dall'Udc ad una civica facente capo a Raffaele Fitto poi candidato alla Camera nel 2018 con il Partito Democratico. Le forze politiche firmatarie della nota di Fratelli d'Italia, Udc, Italia al centro e Lega non hanno mancato nemmeno di punzecchiare Forza Italia, partito di Silvestris e rivolgendosi ai vertici regionali hanno scritto chiediamo agli alleati di fare chiarezza sulla situazione. Per il rispetto che dobbiamo ai nostri allettori non è tollerabile che alcuni personaggi politici cittadini la mattina si professino nella coalizione di centrodestra e il pomeriggio preparino le primarie con un sindaco di sinistra. Dall'altro versante invece al centrosinistra coesistendo con Azione e i popolari di Francesco Lanotte sosterrebbero la figura dell'ex vicesindaco Vittorio Fata. I Cinque Stelle e la Civica e il Faro correranno per proprio conto candidando probabilmente una docente universitaria che non ha ancora sciolto la riserva. Spunta poi la proposta del movimento di professionisti gli altri pronto a scompaginare ulteriormente il quadro che si presenta già precario e senza una cornice ben definita.